Buonasera, una nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di Telesirio L'Aquila che oggi dedichiamo alla scuola edile CPT che ci ospita appunto per la realizzazione di questa trasmissione. Siamo con il presidente dell'ente scuola e CPT Giovanni Cirillo che ringraziamo, con il vice presidente Luigi Danà di Donato e vogliamo ringraziare anche perché poi molti dei dati forniti ci vengono da lui, da Lucio Cococcetta, direttore dell'ente scuola e CPT. Ci sono davvero tanti argomenti da trattare, abbiamo scelto di parlare della scuola edile perché nel territorio aquilano, ma non solo, poi vi spiegheremo perché, rappresenta davvero un'autentica eccellenza per la formazione, per la ricerca e voi ricorderete poi negli anni passati la scuola edile si sta ritornando anche alla mission originaria. Partiamo allora, presidente, da questo. Innanzitutto vogliamo spiegare ai telespettatori che cos'è la scuola edile, che cos'è il CPT e soprattutto cosa fate, qual è poi la vostra attività quotidiana. Buonasera, la scuola e il CPT sono enti bilaterali, come io dico sempre e spiego sempre perché sono enti un po' sconosciuti al grande pubblico. Sono enti che sono formati dagli imprenditori, quindi dal lance e dai sindacati. La scuola è stata creata negli anni 60 proprio per venire a un vulnus formativo che c'era nel campo dell'edilizia perché mentre lo Stato italiano aveva creato le scuole professionali per quanto riguarda il metalmeccanica, per quanto riguarda l'elettronica, invece per l'edilizia tutto questo non c'era. Allora le parti sociali, quindi i costruttori e i sindacati inventarono proprio questi enti bilaterali che è la cassetile che è quello più forte dove entrano effettivamente i soldi, la contribuzione delle imprese che fanno agli operai e la scuola e il CPT. La scuola nella provincia aquilana ma in tutto il territorio abruzzese è divisa per le quattro province. La scuola dell'Aquila ha sempre fatto un ottimo lavoro sin dagli anni del suo insediamento qui nella provincia aquilana. Chiaramente appena dopo il terremoto si è dovuto ristrutturare completamente perché le esigenze e tra l'altro in un tempo molto molto ridotto sono state molteplici. Ecco colleghiamoci anche la realizzazione allora a questo discorso della nuova scuola. Sì, tra l'altro la realizzazione della nuova scuola era partita molto prima del terremoto, siamo stati un po' dei precursori, abbiamo avuto qualcuno che ci ha preceduto, ha avuto sicuramente un flash, un lambo rispetto a questa scuola. La stiamo realizzando con tanta fatica perché abbiamo avuto qualche problema dal punto di vista con l'impresa realizzatrice e questo ci ha portato qualche disagio perché averla operativa nel boom della ricostruzione aquilana sarebbe stato meglio. Purtroppo così non è, ma noi abbiamo tanti tanti progetti da poter inserire nel nuovo edificio appena verrà realizzato, appena diventerà operativo. Ci si sta lavorando, lei diceva prima, stiamo tentando di ritornare ai vecchi mestieri, alla vecchia missione della scuola perché negli ultimi anni le scuolerie, un po' in tutta Italia, hanno sopperito proprio sul campo della sicurezza perché con la legge 81, tutte le leggi che si sono susseguite per quanto riguarda la sicurezza sui cantieri, perché io ricordo che la Nazione Italia è ad altissimi livelli, all'avanguardia per quanto concerne la sicurezza sui cantieri, sui luoghi di lavoro in generale, sui luoghi di lavoro noi interessa il cantiere che per definizione è immobile e temporaneo, quindi inserire delle procedure omogenee e ripetitive è sempre un discorso molto molto difficile, molto molto difficile su un cantiere. Devo dire che quindi la scuolidiera negli ultimi anni ha dovuto sopperire la richiesta di sicurezza sui cantieri, quindi si è dedicata moltissimo a fermare gli operai, i capi cantiere, ma addirittura proprio i datori di lavoro perché oltre proprio nel corso spicciolo si è dovuto cambiare la mentalità di tutti gli attori di un cantiere edile. Invece da qualche anno, da un anno a questa parte, stiamo tentando proprio di riacquisire la vecchia missione della scuola, quella di rinsegnare i mestieri, sì agli antichi mestieri perché purtroppo si stanno perdendo, le vecchie maestanze sono andate in pensione, i giovani non sono ancora pronti e poi c'è un po' specialmente il giovane italiano sull'edilizia, sembra che sia proprio un mondo di seconda fascia, invece questo non lo è. Stiamo tornando a insegnare i vecchi mestieri, ma soprattutto anche i nuovi mestieri che nella ricostruzione della provincia dell'Aquila sono venuti fuori, mi riferisco alle fibre, ai consolidamenti, alle demolizioni, tutti tipi di lavorazione che fino a qualche anno fa non erano usuali sui cantieri. È chiaro che c'è bisogno di una grossa preparazione. L'altro ente che è collegato alla scuola, ma quindi ne fa parte, è il CPT. Il CPT è il nostro punto di diamante, lo dico veramente con orgoglio, è un punto di diamante per tutto il sistema delle costruzioni aquilane. I primi CPT più forti erano il CPT di Zorino, che è stato un po' addirittura quello che ha creato la sicurezza sul mondo del lavoro, sul mondo del CPT di Milano, il CPT di Roma, il CPT di Napoli. Erano i CPT più forti perché c'era un grosso lavoro edile. Il CPT dell'Aquila in questi ultimi anni si è inserito in modo forte rispetto a questo gota dei CPT italiani e possiamo dire che nelle prime cinque posizioni. Perché oltre chiaramente allo scenario, perché c'è il lavoro qui nella provincia dell'Aquila, noi abbiamo inteso trasformare il CPT non solo come organo di consulenza all'impresa, ai professionisti per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza sui cantieri, ma anche un organo di ricerca. Noi collaboriamo tantissimo con l'università, il sottoscritto, ma devo dire anche il presidente dell'Ange, sia il presidente frattale Barattelli e adesso l'amico Adolfo, che approfitto e fa gli auguri di un nuovo incarico ricevuto. Stiamo lavorando tantissimo con l'Università dell'Aquila e con tutti gli enti che operano nel settore di... mi riferisco alla ASL, mi riferisco all'INEL, noi facciamo delle grosse borse di studio con l'INEL, l'abbiamo fatto con l'ASL, stiamo facendo delle ricerche rispetto a questi nuovi prodotti chimici che si utilizzano sulle ristrutturazioni. Ecco, l'università stiamo tendendo di avere un rapporto sempre molto più diretto, perché l'università ha un bel risconto sul territorio ed è giusto che un ente tipo il nostro, che ha un grosso filo diretto con le aziende, si possa creare una grossa collaborazione. Proprio in questi giorni siamo stati ospiti dei nostri cugini di Taranto, dove anche lì loro devono fare un tipo di lavoro che è molto simile al nostro. hanno avuto un grosso contributo per quanto riguarda la ristrutturazione di tutto il centro storico della vecchia Taranto, che è presso a poco simile a quello dell'Aquila, e loro ci hanno fatto una visita qualche mese fa, si sono resi conto di come si operava, di come si è operato ad Aquila, e hanno voluto capire un po' come impostare le varie candelizzazioni, perché quando si opera in un contesto di centro storico non si opera un'impresa alla volta, un'operatore alla volta, ma bensì, come potete vedere sui centri storici della nostra provincia, si operano più operatori insieme. Gestire la sicurezza di più persone in un'area abbastanza ristretta diventa difficile. Noi abbiamo studiato, e quindi vi dicevo prima la parte di ricerca del nostro GP centro storico, abbiamo studiato in collaborazione con l'Università dell'Aquila e il professor De Bernardis, proprio dei piani di candidatizzazione. Nel senso, quando i progettisti propongono all'amministrazione i piani di recupero, come si deve recuperare quella determinata zona del territorio, bisogna anche progettare la sicurezza e come si lavora insieme, più operatori economici lavorano insieme ma in sicurezza. E quindi l'hava fatto un piano di candidatizzazione, vanno date delle procedure, vanno spiegate delle procedure e soprattutto va trovato chi le fa rispettare. Questo nostro studio, questa nostra consulenza, i nostri amici di Taranto l'hanno veramente molto apprezzata perché loro fra poco addirittura hanno 890 milioni di euro per il patto di Taranto che devono spendere per far sì che il centro storico di Taranto stesso diventi funzionale e bello, un po' come il nostro. Poi una cosa che ci tengo a dirle, quando noi molto spesso facciamo da Ciceroni a tantissima gente che viene a vedere la ricostruzione della provincia dell'Aquila ma soprattutto il centro storico dell'Aquila, professori universitati del Canada, del Giappone, della Germania, ma pure università italiane, e quando entrano nei nostri cantieri rimangono sempre a bocca aperta, rimangono gente di mestiere, gente che sa veramente di cosa si parla, rimane e ci fanno, noi li prendiamo solo perché stiamo lì, ma fanno i complimenti per come si opera, sia dal punto di vista della sicurezza ma anche dal punto di vista della ricostruzione, perché purtroppo passa sempre un messaggio negativo sulla ricostruzione della nostra provincia, perché poi vanno sempre sui media qualche episodio poco gradevole. Invece io genego a sottolineare che ogni volta che noi ospitiamo queste persone, pure di altissimo livello, rimangono sempre effettivamente dicendo ma questo state facendo, ma veramente avete fatto questo, ma veramente siete intervenuti con questo tipo di prodotto, con questo tipo di lavorazione. E questo è un aspetto che a me piace sottolineare sempre, proprio per smentire che poi le cose buone, a volte fortunatamente riusciamo a farle anche noi del centro. I dati poi danno ragione, insomma, a quello che diceva il presidente Cirillo, perché l'Aquila anche per gli infortuni va in controtendenza e quindi ci sono cantieri sicuri, cantieri ordinati, non è facile gestire, lo diceva il dottor Cirillo, le interferenze, a volte accade che in centro, in zone di piccole dimensioni, i lavorini più ditte ci siano i sottoservizi, quindi insomma è capitato di gestire situazioni anche difficili, ma lo si è fatto nella maniera migliore. Poi torneremo a parlare dell'esperienza aquilana con il presidente Cirillo, ma vogliamo parlare anche con il vicepresidente Luigi Di Donato, che è un po' più l'emanazione dei sindacati, quindi segue da vicino anche altri aspetti legati alla ricostruzione e proprio nello specifico al lavoratore, all'applicazione del contratto. C'è qualche anomalia? Perché a volte si tendono ad utilizzare contratti atipici e voi vi battete perché questo non accade, perché a volte si possono generare meccanismi negativi, una sorta di concorrenza sleale. Intanto vorrei precisare che il mio intervento è a nome di tutte e tre le sigle, di Feneal, Filca e Fillea, Cigelle, Cislequil, del comparto edile. Sì, nella domanda che lei mi fa, purtroppo si affacciano tante distonie, distonie che purtroppo sono vecchie, ma dall'atto del momento in cui è partita la ricostruzione, noi per fortuna, grazie all'operato del prefetto di quel momento, di Gabrielli, che aprimmo un tavolo dell'osservazione proprio per verificare i flussi di manodopera. Perché questo? Perché nell'emergenza avevamo purtroppo costatato che venivano nell'emergenza qualsiasi azienda di tutta parte d'Italia, ma tutto si faceva tranne l'applicazione del contratto edile. Questo a noi ci ha dato una spinta per mettere in chiaro alcuni aspetti, perché spesso si è visto imprese che sono venute qui, presi i soldi e sono scappate. Quando in una realtà così disastrosa, per la necessità e bisogno di rinvestire l'economia nel territorio. Questo lo dico non perché si vuole penalizzare, perché fino a che funzionava il DURC, vecchia maniera, noi avevamo la fotografia istantanea e immediata su quello che era il cantiere. Dall'emissione dell'applicazione del nuovo DURC, sarebbe il DOL, quello telematica, purtroppo dobbiamo constatare che non abbiamo più, perché sono state cambiate una serie di formule, che nella tempestività non abbiamo più quella fotografia che precedentemente ci dava la possibilità di vedere la legalità in via diretta. Questo non voglio accusare, perché su questo sistema purtroppo pagano sempre le imprese sane. e voglio dire che spesso si applicano contratti che non hanno nulla a che vedere con il comparto edile. E spiego, tanti contratti metalmeccanici, per esempio chi fa i detti di legno maggiormente applicano il contratto metalmeccanico, oppure vediamo in certi aspetti contrattazione dei servizi, molti servizi. E' una situazione che noi spesso in quel tavolo le denunciamo. E in pratica siamo riusciti, grazie alla collaborazione di tutto il tavolo tecnico, dall'Inps al DPL all'INA, alle casse di le tutte, perché noi poi abbiamo un discorso, per fortuna in questo aspetto, abbiamo una trasferta regionale, dove abbiamo un termometro più compatto, più completo, proprio per non impoverire il sistema delle altre province, abbiamo ritenuto opportuno che i lavoratori che vengono da Pescara, da Chiedi e da Teramo, rimanessero iscritti nella casa sedile di provenienza, noi dandogli il servizio col CPTL ente a scuola. Devo dire che, e non lo dico perché vogliamo fare il campanismo, io condivido pienamente e rafforzo quello che diceva precedentemente il Presidente, noi siamo una realtà e la vogliamo trasportare a livello nazionale, non perché vogliamo dimostrare che siamo più bravi, perché nella storia che oggi si sta manifestando attraverso l'officina L'Aquila, stiamo toccando a livello di tutti i comparti della ricostruzione vera, con la stampa di tantissime nazioni, proprio perché noi vorremmo cercare di dare un segnale vero e serio per come dovrebbe essere la vera ricostruzione. Da questo vorrei dare una ciliegina sulla torta che a me da Abruzzese mi dà orgoglio. Non a caso abbiamo pattuito che il mese di novembre faremo la giornata nazionale degli RLST. Cosa sono gli RLST? Gli RLST sono i responsabili di sicurezza del territorio, sono quelli che vanno a fare la prima piena di sicurezza sui cantieri. Quindi è anche un bacino dell'attenzione, visto che si parla di sicurezza, perché per noi la sicurezza parte come primo punto, perché non è più possibile, visto i dati a livello nazionale che ci vengono dati, per fortuna l'Aquila no, e speriamo, auguriamoci, che le cose vadano bene, perché l'attenzione è alta, e speriamo che le cose vadano sempre meglio e più freddo. L'unica nota dolente e negativa che in questa fase stiamo assistendo, che rispetto al primo semestre del 2017 e al semestre 2018, ci abbiamo 2.000 addetti in meno. Questo non vuol dire... Sulla città dell'Aquila o su tutta la provincia? ...insieme di tutte le denunce della Cassettile, perché è chiaro che ci sono una serie di fattori che hanno rallentato il processo per l'insieme di cose burocratiche, quindi non sto qui a elencarle, perché l'importante è che... Cioè, il lavoro all'Aquila c'è, speriamo che vada a gonfie vele per il bene della collettività e dell'aquilanità e dell'Abruzzo tutto. Un'altra domanda, però, visto che lei ha fatto riferimento anche se belatamente alla burocrazia. Ecco, all'Aquila vediamo che c'è la ricostruzione privata che va benissimo, invece non possiamo parlare della ricostruzione pubblica degli stessi numeri. Ecco, secondo lei, quale può essere la causa scatenante di questo gap enorme che c'è tra le due ricostruzioni a due velocità? Ma, l'ANCE già in primis su questo fattore ci ha puntato molto, ha più volte contrastato, ma io credo che poi all'insieme di tutti questi... questo problema emerge sempre il discorso della burocrazia, che purtroppo non ce lo possiamo più permettere, perché sull'aspetto delle opere di pubbliche siamo in forte e in forte rallentamento. Questo è un problema un po' italiano, quello della burocrazia, genio civile, pratiche che si fermano. Esatto, questo non è un'accusa, anzi auspichiamo che questo si definisca quanto prima per il bene della continuità e per il bene dell'economia aquilana. A volte c'è proprio il problema anche del personale poi negli uffici anche della ricostruzione come molte volte lo hanno denunciato loro. Presidente, per chiudere, noi anche venendo qui abbiamo notato poi molti giovani che gravitano, ne abbiamo un po' parlato già della formazione, anche il vicepresidente faceva riferimento a questo e l'obiettivo è, e già lo siete, molto probabilmente un centro di riferimento nazionale, perché portare la propria esperienza a Taranto come lei ci raccontava, ecco, questo penso che per la formazione e per la ricerca che fate con l'università vi venga riconosciuto. Sì, sì, questo è vero. Noi speriamo appena finito la nuova struttura che stiamo realizzando dove gli spazi, dove abbiamo campi di prova al coperto, dove ci sono aule molto molto grandi, multimediali e quant'altro di essere sempre più punto di riferimento rispetto a un mondo delle costruzioni. Io dico sempre che noi non possiamo stare da soli come scuole CPT. Io vorrei che uscisse fuori il mondo di ricostruzioni aquilane che è formato da tutti, tutti gli operatori, dagli operai, dalle imprese, dagli enti bilaterali, da tutti coloro che operano nel mondo delle costruzioni e dovrebbe diventare una specie di biglietto da visita. Vuol dire che le imprese aquilane che hanno operato bene nella ricostruzione e nel restauro, perché poi è vero che ci sono molti ritardi, ma perché molto spesso le opere che devono andare in appalto, e mi riferisco a chiese, opere fabbricate monumentali, l'iter è molto molto più difficile proprio dal punto di vista di autorizzazioni. È chiaro che ritardi si accomodano. Però quelle imprese nostre che vanno a fare quei lavori acquisiscono un know-how sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista proprio di operai che operano in cantiere è molto molto elevato e questo va esportato. Benissimo, l'Aquila come modello da esportare. Noi ringraziamo il presidente Giovanni Cirillo, il vicepresidente Luigi Di Donato e anche Lucio Coccetta per l'ospitalità. Ovviamente torneremo a parlare della scuola di Le Cipiti. Li ringraziamo intanto per questa bella chiacchierata piacevole che ci ha dato l'opportunità però di far conoscere un po' di più il modello dell'Aquila e soprattutto l'aspetto fondamentale da non tralasciare mai che è quello della sicurezza sul lavoro avendo noi per sfortuna però adesso c'è tutto un lavoro che va il cantiere più grande d'Europa. Grazie a Luciana Celeste al di là della telecamera e a tutti voi per l'attenzione. Arrivederci.